amici di facebook e il comandante generale giuseppe marasco che vi parla stiamo sulla provinciale san marco e l'amis foggia guardate in questa in questa area di sosta guardate abbandonati abbandonati vari vari ecco melanzane poi vediamo adesso la scadenza il 25 ottobre del ecco 22 25 ottobre 22 questo è uno degli degli scatoli qui di melanzane ma sono pacchi enormi ma che cose e guardate stanno pure giù vediamo cerco poi c'è pure nascoste nascoste nell'erba guardate a parte i vari rifiuti ma numerose con convezione di conserte alimentari guardate questa è la realtà questa un paraurti un paraurti guardate ma insomma cioè ma dico io ma in che mondo viviamo poi accendono ecco queste hanno acceso e ma insomma e si continua si continua cioè rifiuti rifiuti sempre rifiuti rifiuti poi mettono fuoco accendono una volta acceso l'erba si brucia tutto inquinamento dell'aria del sole del sottosuolo guardate qui qui guardate quanti rifiuti questo questo è un canale guardate questo canale pieno pieno di rifiuti ma insomma amici di facebook cittadini popolo ma ci rendiamo conto ci rendiamo conto qua sulla strada provinciale poggia san marco in lames non voglio aggiungere altro a voi i commenti e condividete e stiamo proprio messi male e stiamo peggiorando il corona virus non ci ha insegnato nulla quale virus occorre per educare le bestie umane e e e